Vediamo come cambieranno le squadre di Serie A per la prossima stagione 2019-2020. Per realizzare questo video ho tenuto conto soltanto degli scambi già ufficializzati al 31 luglio. Ho tenuto conto anche delle partenze sicure. Vi faccio un esempio su tutti, Mauro Riccardi lascerà l'Inter ma non si sa in quale squadra andrà per cui non l'ho considerato nell'Inter ma non l'ho considerato neanche in un'altra squadra. Guardate il video fino alla fine perché ci sarà la mia ipotesi di classifica 2019-2020 con le rose attuali. Atalanta giocherà con un 3-4-1-2 con Gollini in porta e difesa formata da Gigi Palomino-Toloi. A centrocampo ci saranno Castagne, Freuler, Derun, Attebor, trequartista al Papu Gomez e in attacco Zapat e Ilicic. Bologna giocherà con un 4-2-3-1 con Skorupski in porta, difesa formata da Dijks, Denswil, Danilo Mbaye. A centrocampo ci saranno Poli Pulgari, i trequartisti saranno Sansone, Soriano, Orsolini e in attacco Palazio. Brescia, ipotesi 4-3-1-2 con Jornan in porta, difesa composta da Martella, Cancelor, Cistana, Sabelli. A centrocampo ci saranno De Sena, Tonali, Bisoli, Spalek trequartista in attacco Donnarumme e Torregrossa. Il Cagliari giocherà con un 4-3-1-2 con Cragno in porta, difesa composta da Lico Gianni, Spisacane, Cepitelli e Mattiello. Il centrocampo sarà formato da Ionita, Cigarini e Rog, trequartista a Biersa in attacco Pavoletti e João Pedro. Fiorentina giocherà con un 4-3-3 con Dragoschi in porta, difesa composta da Biraghi, Milenkovic, Pezzella e Lirola. Centrocampo formato da Zorkowski, Dabo, Benassi. In attacco ci saranno Boateng, Simeone e Chiesa. Il Genoa giocherà con un 3-5-2 con Radu in porta, difesa composta da Criscito, Zapata e Romero. A centrocampo ci saranno Barreca, Lerager, Pandev, Cassata e Romulo e in attacco Pinamonti e Kwame. L'Inter giocherà con un 3-5-2 con Andanovic in porta, difesa composta da Skrini, Argodin e De Vrai. A centrocampo ci saranno Perisic, Brozovic, Sensi, Barella e Lazaro in attacco Politano e Lautaro. La Juventus giocherà con un 4-3-3 con Shevni in porta, difesa formata da Alexandro, Chiellini, De Ligt e Cancelo. Centrocampo composto da Rabiot, Pjanic, Ramsey. In attacco ci saranno Dybala, Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. La Lafio giocherà con un 3-5-2 con Strecoscia tra i pali, difesa composta da Luis Felipe, Acerbi, Vavro. Centrocampo formato da Lulic, Luis Alberto, Lukas Leiva, Milinkovic, Lazzari. E in attacco ci saranno Corea e Immobile. Il Lecce dovrebbe giocare con un 4-3-1-2 con Vigorito in porta, difesa composta da Vera, Meccariello, Lucioni, Benzar. Centrocampo formato da Shakov, Tassidis, Petriccione. Trequartista Mancosu in attacco Lamanti e Lapadula. Il Milan giocherà con un 4-3-1-2 con Donnarumma in porta, Teo Hernandes in difesa con Romagnoli, Musacchio, Calabria. Centrocampo composto da Paquetà, Buonaventura che si è suso trequartista e in attacco Piontek e Leao. Il Napoli giocherà con un 4-2-3-1 con Mere tra i pali, difesa formata da Goulam, Manolas, Coulibaly di Lorenzo. Centrocampo composto da Vielinski, Allan. I trequartisti saranno Insigne, Mertens, Caléon e Lapunta, Milik. Il Parma giocherà con un 4-3-3 con Sepe in porta, difesa composta da Gagliolo, Bruno Alvez, Jacoponi, Laurini. Centrocampo formato da Barilla, Kucca e Hernani. Attacco formato da Gervinio, Inglese e Caramont. La Roma giocherà con un 4-2-3-1 con Paolo Lopez in porta, Spinazzola in difesa con Mancini, Fazio e Florenzi. Centrocampo formato da Veretut, Pellegrini. I trequartisti saranno Klaivert, Zagnolo, Ander, Lapunta, Schick. La Sampdoria dovrebbe giocare con un 4-3-3 con Audero in porta, difesa composta da Mur, Colle e Murillo, De Paoli. Centrocampo formato da Linetti, Ekdal, Praet. Attacco composto da Caprari, Quagliarella, Maroni. Il Sassuolo anch'esso giocherà con un 4-3-3 con consigli tra i pali, difesa formata da Rogerio, Magnani, Ferrari a Japong. Centrocampo composto da Obiang, Locatelli, Traore. In attacco ci saranno Boga, Caputo e Berardi. La Spal giocherà con un 3-5-2 con Berisha in porta, difesa composta da Felipe, Vicari, Cionec. Centrocampo formato da Di Francesco, Kurtic, Missiroli, Murgia ed Alessandro. In attacco ci saranno Petagna e Floccari. Il Torino giocherà con un 3-4-3 con Sirigu tra i pali, difesa formata da Lian con Kulu, Izzo. Centrocampo composto da Ansaldi, Rincon, Baselli, De Silvestri. Attacco formato da Berenguer, Belotti e Iago Falke. L'Udinese giocherà con un 3-4-2-1 con musso tra i pali, difesa formata da Samir, Kong e De Maio. Centrocampo composto da Pezzella, Iaia, Lofofana, Larsen. I trequartisti saranno Barak, De Paul e in attacco ci sarà Lasagna. L'Elas Verona giocherà con un 3-4-2-1 con Silvestri in porta, difesa formata da Bocchetti, Dawidoski e Ramani. Centrocampo composto da Vitale, Veloso, Badu e Faraoni. I trequartisti saranno Bess e Zaccagni dietro la punta di Carmine. Andiamo a vedere ora la mia ipotesi di classifica finale della Serie A 2020 con le rose attuali. Al primo posto campione d'Italia ci sarebbe la Juventus seguito dal Napoli, al terzo posto l'Inter e a completare la zona Champions la Lazio al quarto posto. Quinta l'Atalanta, sesto il Milan, settima la Roma per la zona Europa League, seguita da ottavo il Torino, nona la Sampdoria, decimo il Bologna, undicesima la Fiorentina, dodicesimo il Sassuolo, tredicesimo il Parma, quattordicesimo il Genoa, quindicesimo il Cagliari, sedicesima l'Udinese, diciassettesima la Spal, in zona retrocessione ci sarebbero diciottesimo il Brescia, diciannovesimo il Verona, ventesimo il Lecce. Rispetto alla scorsa settimana nulla è variata nella classifica di sinistra mentre a destra si sono stati un paio di scossoni, soprattutto il Brescia ha perso posizioni in quanto non si è praticamente mosso sul mercato e non puoi pensare di giocarti la Serie A con la stessa rosa della Serie B, hanno cambiato praticamente solo il portiere e poco altro. Mentre si è molto rinforzata alla spalla anche con l'arrivo di Di Francesco, bene anche l'Udinese che ha puntellato un paio di mancanze tra le proprie riserve, bene anche il Verona avrei voluto metterlo un po' più in alto ma per me non ha ancora questo organico adatto a salvarsi, male anche il Genoa che perde un qualcosa in favore del Parma che si è rinforzato anche grazie all'arrivo di Inglese. Ovviamente questa classifica cambierà a seconda dei colpi di calcio a mercato che ci saranno in Serie A quest'estate e io l'aggiornerò periodicamente. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo di lasciarmi un like e di iscriverti al mio canale, poi lasciami un commento con la tua classifica di Serie A 2019-2020. Grazie per la visione!